3-2 del Matelica sul campo del Cesena, succede praticamente di tutto Max perché ad aprire è magri per il Matelica, il raddoppio di Calcagni quindi Matelica stava vincendo 2-0 sul campo del Cesena, accorcia le distanze Aldino Manuzzi di Gennaro, poi al 96esimo il pareggio del Cesena con Addizione, è finita neanche per sogno al 98esimo, Balestrero firma il punteggio sul 3-2. Vittoria interna del Bari 3-1 con il Foggia, Maras e Dursi per il Bari nel derby praticamente questo storico della Puglia, accorcia le distanze di Ienno per il Foggia e arriva il gol del 3-1 ad opera di Dursi. Vittoria esterna del Palermo 2-0 sul campo della Juve Sabbia a Castellammare, Valente e Luperini, questo è il quadro. Ed è una vittoria di grande spessore, noi per parlare non solo di tutte le altre ma in particolare di un Palermo che ha un prefisso ben preciso 2-0 al Teramo che è una grande squadra, l'abbiamo visto tutto l'anno nel girone della Ternale, 2-0 oggi in casa della formazione Sabiese, abbiamo il direttore di tuttopalermo.net che ritroviamo con piacere. Rosario Carraf, buonasera. Buonasera a tutti voi naturalmente, ben ritrovati. Ciao Rosario, poi con quel pupo dietro, di tutto si può dire che non stia a Palermo insomma. Però Palermo sorride, abbattuò due grandi avversari tanto perché qualche inopportuno commentatore, tra questi anche uno di Verona, si erano permessi di dire che il girone C non fosse così pericoloso e insidioso e invece andare a vincere contro il Teramo, una delle squadre più quadrate che la stessa Ternale ha sofferto, soprattutto nella partita di Teramo al ritorno. E andare a vincere in casa della Juve Stabia con di fatto un solo risultato a disposizione, signori, è un gran segnale. Come la vivete nell'ambiente del Palermo questa cosa? Ma intanto possiamo dire due grandi vittorie, come ricordo tu, col Teramo 2-0 e poi in casa della Juve Stabia e Castellammare di Stabia 2-0. Sicuramente un Palermo che ha dimostrato una prova di carattere. Da quando è arrivato Giacomo Filippi le cose sono un po' cambiate in casa Rosaneno. Soprattutto sono stati schierati, diciamo, quei giocatori che hanno maggiore esperienza, che stanno aiutando i giovani a crescere. Vedi per esempio il giovane che è cresciuto tanto, che Lorenzo Lucca ha 13 rettime e stasseghi in questo campionato e purtroppo già non c'è da diverso tempo in casa Rosaneno che si è dovuto operare per antroscopia per un problema al menisco sinistro, il ginocchio sinistro. Quindi lui non ci sarà per tutto questo tempo e non sta giocando il Palermo senza di lui, senza il bombe della squadra. Eppure mancando il bombe della squadra il Palermo sta facendo davvero bene. Un grande Valente sicuramente, un grande Floriano, un grande Saraniti, ma tutta la squadra sta giocando davvero bene. In queste due partite il Palermo ha meritato ampiamente di passare il turno. Anche nella partita odierna contro la Juve Stabia praticamente il risultato non è stato mai messo in discussione. Una rete per il tempo, a 17esimo bella rete di Valente, poi a 66esimo bella rete di Andrea Saraniti. Saraniti che è entrato al posto di Santana e ha trovato la via del gol. Ha esultato tantissimo ovviamente perché sapeva che quella era una rete davvero importante. Altrimenti c'era da soffrire fino alla fine perché comunque la Juve Stabia è una squadra molto quadrata. Una squadra che sta a giocare in ripartenza e naturalmente ci ha provato fino alla fine. Però il Palermo ha chiuso davvero bene tutti i spazi e soprattutto un merito vanno a tutti i giocatori. Nella mente dei giocatori è cambiato qualcosa. È vero che il Palermo naturalmente non era la squadra più forte del Gionicci e questo lo sappiamo perché siamo sempre sinceri nei nostri commenti. Però effettivamente il Palermo non era quella squadra che si era vista soprattutto nel giro dell'andata dove stentava un po'. Consario, però Palermo ha un grande merito societariamente. Intanto quando hai giocatori del livello di Saraniti, quando hai un look, quando hai Valente che si mette a disposizione del gioco collettivo e segna gol pesanti, recentemente ne ha segnati due, credo nell'ultimo mese e mezzo. Insomma, voglio dire, conosciamo la dirigenza rosa-nero, è gente che ha sempre fatto calcio e che i giocatori si è andati a prendere sui campi più lontani, per non dire periferici. E noi da queste parti ne conosciamo parecchi di giocatori presi dai dirigenti del Palermo. E anche c'è tutti, eh? Beh, sicuramente sì, questa è stata una cosa fatta ad hoc. Sono stati scelti quei giocatori che magari potevano servire alla causa a Rossano. Naturalmente si sapeva fin dall'inizio, e noi siamo stati sempre obiettivi, ma anche la dirigenza che non si poteva lottare per il primo posto, dove la Ternana ha vinto meditatamente il Gironi C, che secondo me è stato il Gironi più impegnativo, anche se qualcun altro pensa diversamente. Io che ho seguito tutti e tre i Gironi, sia l'A che il B, però effettivamente la società ha cercato naturalmente di prendere quei giocatori col budget a disposizione che potevano permettere al tecnico, prima era Boscai e adesso Filippi, di lottare per raggiungere naturalmente i play-off e qualche posto inimportante. Alla fine è arrivato effettivamente al settimo posto in classifica, però praticamente ha cancellato questo handicap di ciaminiziale, vincendo le due partite, prima col Ternana, ma con la Lovia e Stabbi. Adesso ci sarà il sorteggio integrale con l'inserimento delle squadre, ovviamente che sono arrivati al terzo posto nei tre Gironi, quindi si aprirà un altro campionato, un gradiente è andato e ritorno e secondo me il Palermo può dire la sua adesso in questi play-off. Lo scoglio era importante, sia il Teramo il primo step raggiunto e poi la Juve e Stabbi, adesso secondo me il Palermo potrà dire la sua, anche se ci sono squadre davvero forti, perché per esempio io considero Padova, Alessandria, Avellino e Catanzano, secondo me le quattro squadre è realmente da battere nella corsa di play-off per poter raggiungere la Serie B. Poi ci sarà qualche sorpresa, come sappiamo sempre, però occhio a queste quattro e secondo me Palermo e Bari possono inserirsi tra queste quattro per dire a loro fino alla fine. Senti Rosario, poi a Palermo voi siete famosi per non essere calienti, calorosi per nulla. Insomma, ho visto, ho letto di un pubblico che veramente non sta nella pelle, 300 tifosi che è vicino alla squadra, grande incitamento. Insomma, ecco, la spinta, anche se sappiamo ancora, scorso Covid, non si possono fare assembramenti, eccetera. Però la spinta della piazza, quanto può essere importante in questo che poi è considerato un campionato a parte? Beh, sicuramente molto importante. Ricordo benissimo, sia nella partita del giorno prima, la partita col Tenomo, sia quella contro la Juve Stabio, dove il Palermo naturalmente si apprestava a partire, tanti tifosi, oltre 300 tifosi, hanno voluto incoraggiare la squadra e presentire il pro-apporto. Avere il pubblico vicino, secondo me, dà qualche cosa in più e la squadra rossa dimostrano partire dopo partire. I tifosi rosenoi, posso dire che effettivamente ci credono, naturalmente è una lotteria la lotta per i play-off, però ci credono e sperano che il Palermo possa dare sempre il massimo e soprattutto possa raggiungere step dopo step e poter conquistare quella Serie B, tanto ovviamente agognata, dopo che il Palermo, ricordiamo, è dovuto ripartire dalla Serie B, quando era praticamente a un passo da poter ritornare nella massima Serie. Rosario, tu hai raccontato per tutto l'anno, anche la scorsa stagione in Serie D, in Interregionale, il Palermo per la radio, per chi non ti conosce, però dobbiamo dire anche una cosa importante che riguarda un'altra piazza. A spese sue, Bari ha capito che tante volte è meglio starsi zitti, quello che non ha capito qualcuno a Verona, per esempio, che parla di gironi che non ha mai visto, io che mi sono montato i gol di tutti e tre i gironi dal primo novembre a oggi ti dico che grazie al bravissimo collega Alessandro Natali ho ritrovato giocatori che addirittura, come il vostro Luca, è partito da Moncalieri e addirittura Torino e adesso mi sembra, lo dico senza mezzi termini, è uno dei pezzi fregiati della vetrina estiva del Palermo. Adesso, secondo te, dall'ottica del Palermo e dall'ottica Bari, cosa può accadere? Sicuramente può accadere di tutto, il Bari naturalmente non deve fare l'errore che ha fatto lo scorso anno e penso che questo naturalmente lo sappia, l'abbia ben chiaro. Il Palermo deve essere sempre umile, giocare step dopo step, partita dopo partita e pensare avversario per avversario, poi quello che arriverà naturalmente si vedrà, però secondo me sono due piazze molto calde, nel senso che i tifosi sono sempre vicini alla propria squadra, non sono avuti ad andare ovviamente allo stadio, come sappiamo, per l'emergenza coronavirus, naturalmente questa pandemia da Covid-19, però i tifosi hanno fatto sentire sempre il proprio apporto alla squadra, con manifestazioni naturalmente fatte col distanziamento, con cartella onistica, con sventolamento di bandiere e poi soprattutto ogni volta che il Palermo deve partire per una gara ci sono tanti tifosi, come avete ricordato anche voi, quindi secondo me devono fare attenzione e non sottovalutare nessun avversario, come qualcuno forse ha fatto in questi primi due turri ed è capitato purtroppo per queste squadre, naturalmente il Palermo deve sapere che qualsiasi squadra deve essere affrontata con la giusta determinazione e il Palermo intanto non deve intimorirsi di nessuno, così come il Bari, e soprattutto non fare gli errori di sottovalutare l'avversario, perché secondo me anche il Catania, che è un'altra squadra siciliana che era prodata ai play-off, secondo me un po' ha sottovalutato il Foggia, quel Foggia che ha giocato davvero un buon torneo in questa stagione e che ha perso nel derby Pugliese contro il Bari, il Bari obiettivamente secondo me è più squadra del Foggia, io che ho seguito naturalmente queste squadre anche visto che giocavano contro il Palermo, come ricordo tu e il Radio Cronica in esclusiva del Palermo anche per questa stagione targata 2020-2021, quindi non bisogna sottovalutare l'avversario, altrimenti può succedere quello che è avvenuto al Catania, perché loro possiamo dire che erano quasi sicuri, diciamo, di riuscire a passare il turno contro il Foggia, invece così non è stato bravo anche al Bari, effettivamente oggi, che ha giocato una buona partita e ha dimostrato il proprio valore, così come hanno fatto tutte quelle che comunque sono approdate adesso al turno nazionale, a quello successivo. Può ritenersi delusa la Juve Stabia? Beh, la Juve Stabia può ritenersi delusa per la partita, secondo me, che ha giocato, o meglio, per la partita che ha giocato il Palermo, secondo me loro si aspettavano un'altra partita, il Palermo forse che poteva giocare in contropiedi, invece fin dai primi minuti il Palermo ha giocato a viso aperto, la squadra alleata da Padalino non se l'aspettava, il Palermo forse è partito intimorito proprio i primi 3-4 minuti, poi pian piano è venuta fuori la compagina alleata da Giacomo Filippi e ha ampiamente meritato il risultato, quindi dal canto loro, loro hanno dato secondo me tutto per quanto riguarda la Juve Stabia, così come ha fatto il Palermo, poi qualche valore in più è venuto fuori nel Palermo, soprattutto con due giocatori di esperienza, ricordiamo che hanno giocato in altri campionati, non su tutti, Mario Alberto Santana e nessuno si deve ovviamente dimenticare in tanti anni, nel massimo campionato di Serie A, e soprattutto Floriano, Valente, che hanno dimostrato il loro valore, e così come tutta la squadra, anche Lancini in difesa e soprattutto un ottimo portiere, Alberto Pelagotti è giusto ricordarlo, perché dopo che ha fatto quella papera, diciamo nella partita contro l'Avellino, ha stato un po' criticato, poi si è fatto ripagare l'affetto anche dei tiposi, grazie alle sue parate, grazie a un rigore parato, grazie a ottimi interventi, anche oggi ha messo in atto almeno due ottimi interventi. Rosario, buon lavoro a te, a tutto Palermo.net, ci vediamo e ci sentiamo presto, grazie. Grazie Rosario, buon lavoro. Grazie a voi, naturalmente un saluto a tutti voi, alla prossima. Ringraziamo il difettore e voce delle Radio Cronache del Palermo, con Radio Azzurra, TV Network e tutto Palermo.net, che è un sito che parla di tantissime discipline sportive nel solo di calcio, e che leggiamo con piacere, tra poco noi andremo a Bari da Massimiliano Tangorra, che ha giocato oltre 450 partite tra i professionisti, tra le diverse categorie, e che è stato uno, insieme a Mr. Valbruni, exteramo, dei nostri opinionisti, insieme a Daniele Garbo, che voglio ringraziare, a Emilio Albertario, che seppur esperto di economia e di politica, tre presenze in tutto il calcio, un minuto per minuto, beato lui, le ha fatte, ma soprattutto è un grande appassionato di sport, e non a caso noi abbiamo avuto Francesco Albertario per 4-5 stagioni come Radio Cronista, che è il figlio, e la classe non è acqua, e abbiamo raccontato insieme a lui, dalle coppe europee fino al settore giovanile, il settore giovanile che ha fatto vedere quest'anno con il progetto della legale Serie C, tanti ragazzi, ma addirittura, io ho visto i tabellini, un 2005 ha fatto l'esordio in Serie C, un 2003, cioè hanno scommesso le società, dando retta a quello che è successo, credo che al di là dell'1-1 di oggi, da Virtus Verona dell'amico Gigi Fresco, presidente allenatore a Salò, contro la Feralpi Salò, che ha premiato la squadra della provincia di Brescia, la Virtus Verona abbia intanto una credibilità economica, societaria, gestionale, ma poi anche la simpatia della parte scaligera, che magari non tifa per il Chievo Verona, o per il Verona, per l'Ellas, quindi diciamo che avere una Serie C, noi, parliamoci chiaro, a Roma abbiamo avuto la Lodigiani, che quando c'erano Lazio e Roma di domenica, di sabato al Flaminio, al massimo c'erano 400 persone, immaginate in un impianto che ne conterrebbe, o meglio ne avrebbe contenuti, perché se parlo oggi del Flaminio mi arrabbio e mi sale la bive, 25.000 persone, e fu utilizzato, se non sbaglio, l'anno prima dei mondiali, con Föller, centravanti della Roma. Cioè, perché stavano facendo i lavori all'Olimpia. Esattamente, quindi immaginate un po', la Lodigiani non ce l'ha fatta essere la terza squadra di Roma, in maniera importante nei numeri, anche se è arrivata nel 93-94 alle porte della Serie B, dove invece imboccò la Salernità di Taglio Rossi, 1-1 all'Olimpico, 4-0 alla Reghi, dove si giocò di lunedì e non di domenica. Però Max, torniamo un attimo, che c'è da dare anche risultati dei play-out, prima di andare al prossimo collegamento, quindi andiamo a vedere il primo turno dei play-out, qui ci sono partite da andate e di ritorno, eh? Eh sì, esattamente. Allora, andate e ritorno, quindi sabato alle 17.30, Fano Imolese, vittoria esterna alle Gnago Salus sul campo della Ravenna per 1-0, vittoria interna 2-0 dei Bisceglie sulla Paganese, e il ritorno ovviamente è tutto sabato alle 2.30, tranne Imolese e Fano, che invece è il 29, cioè stiamo parlando di... Bravo, fammi fare una precisazione. Vai. Su questa schermata del buon Matteo Lavoro, la prima in alto a sinistra, che qualcuno evidentemente durante l'anno ha chiamato in modo errato, ci hanno scritto diversi difusi, anche il collega Alessandro Natale, che è sempre attento a queste cose, non a caso il nostro Johnny Migliore, no, rimetti la grafica Matteo, che AJ sta per Alma Juventus, anzi Alma Juventute, Fano, che è il vero nome, lo diciamo perché noi abbiamo anche la responsabilità di fare questo piccolo moto di informazione. La squadra di Fano che tra l'altro andare a affrontare sul suo campo è sempre una cosa complicata, e ha questo play-out che lo ricordiamo favorirebbe in caso di doppio risultato utile Limonesi al ritorno, perché quelle che giocano in caso di un risultato uguale tra gara 1 e gara 2 avrebbero la possibilità, perché sono stati aboliti, di non giocare più i famosi tiri di rigore, ma di contare sul risultato al termine del doppio confronto. però quando c'è andato al ritorno di solito uno cerca di portarla a supplementare, ma secondo me i calcoli qui non li puoi fare, anche perché c'è stata l'andata una vittoria non rotondissima del Bisceglie, e al ritorno bisogna stare attento alla Paganese perché sul suo campo qualche scampo lo ha dato. C'è il nostro amico? Comunque correggiamo un attimo perché Bisceglie e Paganese è 2-1 con Makota e Priola per il Bisceglie e poi Diop a cosciare distanze, quindi correggiamo non è 2-0 ma 2-1, mentre Legnaco Salud va a vincere a Ravenna col gol di Buric. Allora stiamo contattando intanto il nostro prossimo ospite attraverso Skype e voglio ricordare una volta di più che dalle 14.30, non dalle 14 come è successo durante tutta la stagione regolare, sabato andremo in onda con il pre-partita di mezz'ora fino alle 15, quindi Lorenzo Capezzone-Ranchi sarà allo stadio libero liberati in compagnia da quello che ho capito di Federico Aielli per la parte delle riprese, vivremo probabilmente il pre-partita dove la città di Terni deve pensare a incitare la Ternana, lo dico, e non con tutto, cerchiamo di dare anche qui un segnale importante perché la società ha fatto sacrifici di rilievo spessi di tutela della salute non solo dei giocatori ma anche dei familiari dei magliazzinieri, degli atleti rosso-verdi e poi perché, come dico sempre io da mia vista, se uno non ha la bacheca europea del Milan, mondiale del Milan, italiana di altre realtà, una supercoppa dopo aver perso la Coppa Italia lo scorso anno contro la Juventus Under 23 insaporirebbe un piatto che è già stato molto gustoso per i tifosi della formazione di Terni, no? Quindi, facciamo i bravi come si suol dire e godiamoci questo spettacolo che poi è uno spettacolo. Lo dico perché poi c'è la diretta Rai, noi andremo in diretta lo stesso, faremo anche mezz'ora di dopo partita, poi vediamo se quella mezz'ora si può allungare in qualche modo e maniera, cerchiamo di dare un contributo con ospiti che ci hanno aiutato, in realtà alla fine sono stati compagni di viaggio, penso ai colleghi giornalisti, penso ai vari Augusto Austeri, Riccardo Marcelli, tutti quanti, quelli che da Terni, da Lombria, da Roma, Madolini, Giovannetti, adesso vado a memoria, sì, sì, certo. Tutte le testate giornalistiche, perché Terni non è e non sarà mai una piazza qualsiasi, se voi pensate che negli anni 70 era, non solo del centro Italia, ma a livello assoluto, un polo industriale invidiato da tutta la penisola, capite che qualcuno, e non parlo dello sport, parlo dell'amministrazione della cosa pubblica, si è scordato per esempio di costruire di alberghi, trovo scena questa cosa, che una bellezza come il lago di Piediluco che ha avuto i fratelli a Bagnale, è un polo ovviamente della federazione, è un scienze operale, ma pensa alla cascala di Marmone che ce la invidiano anche nell'altra parte dell'oceano, stupendo, io che ho studiato, e poi dopo si fa più rafting lì, c'è anche un'altra unità, io che ho avuto la fortuna, dando retta a mia madre una volta tanto, di studiare turismo e storia dell'arte, santi Dio, non costruire, è come Cerveteri che mi abita di fronte, io sto alla Dispoli, quarantesimo chilometro della via Aurelia, quella che porta a Ventimiglia e al Vallo di Adriano in altri secoli, cioè a Cerveteri hanno la culla della civiltà etrusca insieme a Tarquini, però senza motel, senza alberghi, cioè io non ho capito, la Dispoli però un po' scarseggiano, ce n'era uno ma c'è più, guarda l'improvvisazione che ha accompagnato la Dispoli, Terni e Cerveteri purtroppo è la stessa, le accomuna, perché io vorrei capire come fai a non costruire gli alberghi in piazze che hanno una cultura architettonica, storica, ma poi a Cerveteri no, Antica Cerveteri è meta anche di turismo quello che erano gli etruschi. Io farei una sorta ritardia di quelle che si consegnano quando vinci un campionato, non ci mettere tutti i nomi degli assessori al turismo, a futura memoria. Ce l'abbiamo, chiediamo Massimiliano? No, ok, perfetto, abbiamo qualche problema, io però direi che possiamo, abbiamo anche un ospite che allarghiamo qua gli orizzonti, Max, anche sul, sul, insomma, il campo verde, è bello perché va diegato, non solo al maschile, giovanile, ma anche al femminile. Noi non dobbiamo acquisire i diritti televisivi del calcio femminile come qualcun altro ha saputo fare, bravi, però il calcio femminile in parecchi se lo sono scordato per tanti anni, perché è una grande ipocrisia tutta italiana e tutta del calcio italiano, cioè non è perché c'è una televisione che segue, è come se domani entra, uno che non ha mai visto premiato il tennis da tavolo ulgarmente chiamato ping pong, è come se noi ci vedono trasmettere partiti di ping pong perché c'è qualche situazione come dire commerciale. Il calcio femminile in Brasile ha ottenuto, in Brasile ha ottenuto la stessa perequazione economica delle donne agli uomini, quando succederà nel nostro paese potremmo dire che non è meno incivile ma un po' più incivile. Beh, diciamo un passo, Max, un passo in avanti è stato fatto a punto di vista normativo perché dalla stagione 22-23 la Serie A e solo la Serie A diventerà un campionato a tutti gli effetti professionisti. Ma perché solo la Serie A? E questo non l'ho capito, noi abbiamo intervistato a Sporting Club la Pignagnoli che è il portiere del Cesena che milita in Serie B e stanno andando anche molto bene poi davanti in Serie B c'è pure il tuo Milan e voglio dire stanno facendo delle cose egregie infatti parlavamo con lei per altri motivi opposti al caso Lugli che ritroveremo sicuramente perché questa pallabolista poi le è stato riconosciuto comunque l'indennizzo invece la Pignagnoli è stata trattata come si dovrebbe comportare una società cioè è rimasta incinta le ha innovato automaticamente il contratto l'hanno aspettata per un mese e mezzo a partorito è tornata in grande forma la domanda è sempre quella perché fanno paura le donne è qui che il paese è bigotto e ipocrite è qui che abbiamo esponenti della cosa pubblica e nelle istituzioni sportive non abbiamo Massimiliano Tangor e la possiamo tra poco andare a pubblicare finisco il ragionamento ma perché una come la Lezzale ha dovuto aspettare adesso per essere chiamata a rappresentare le istituzioni sportive cosa ha avuto durante la carriera che l'ha fatta non meritare una stima raccoglibile in tempi precedenti guarda sono assolutamente d'accordo con te mi fa piacere leggere questa notizia che mi è arrivata pochi minuti fa sul cellulare la leggo che il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all'unanimità alla proposta di legge sullo stop al divario retributivo tra uomini e donne perché quello che stai dicendo tu è sacrosanto ma parte da un altro assunto ovvero non solo nello sport ma a livello sociale e di tutti i giorni c'è questa differenza chiamiamola così tu per regione valsi intendi l'istituzione amministrativa sì sto leggendo la notizia ufficiale sostegno all'occupazione all'imprenditoria femminile di qualità alla valorizzazione delle competenze delle donne quindi maggiore valore ma il problema è che se c'è hanno fatto questa proposta di legge vuol dire che comunque prima non c'era una minimità non c'era una parità ma se noi abbiamo le nostre connazionali ricercatrici santi e dio che vanno a Chicago vanno a Montreal vanno a Bruxelles vanno a Ginevra al CERN e sono applaudite stimate considerate evidentemente siamo rimasti e lo dico da figlio di meridionali così siamo rimasti al medioevo del nostro meridione dove la donna è stata ritenuta fino agli anni settante anche dopo qualcosa di diverso rispetto allo splendido contributo che può dare non solo il fatto di squisito umanità ma di applicazione ma di impegno ma di puntualità ma di grinta ma di ingegno e allora lo sport la smetta di prenderci allora in Francia voi lo sapete perché abbiamo intervistato due volte la mia amica arbitro della FIFA Manuela Nicolosi in Francia i francesi che rispetto al nostro ottuso popolo come dice Paolo Iberti di Torino il mio amico e collega di tutto sport hanno ottenuto la libertà con la rivoluzione mentre noi siamo dei cretini perché abbiamo paura pure di protestare quando abbiamo ragione sempre in maniera civile in Francia i test atletici degli arbitri uomini sono gli stessi degli arbitri donna Stefanin Frappar non ci è arrivata per caso il 14 agosto del 2019 a dirigere la finale di Supercoppa europea tra Chelsea e Liverpool finita dall'altra tira di rigore quindi una donna li tiene 120 minuti con lucidità perché quella sera chi non è ottuso o chi conosce il regolamento non può disconoscere alle tre fanciulle io le chiamo affettosamente così perché uno è una mia amica Stefanin Frappar Michelle O'Neill Emanuele Nicolosi di non aver sbagliato forse una minima chiamata ma sui fuori gioco non ne hanno sbagliata una e allora se i test atletici sono quelli allora cominciamo hanno fatto qualche anno fa devi sapere il tentativo sbagliato di farci pensare che Cristina Cini di Firenze rispettabilissima persona fosse assistente arbitrale cioè guardaline degna della Serie A cosa che non era tecnicamente non ci prendiamo in giro forse la Serie C poteva fare adesso c'è Maria Marotta di Salerno che è in Serie B e se l'è meritata da arbitro quindi un ruolo un po' più delicato con tutto rispetto per i guardaline come li chiamavamo da bambini però va detto che prima o poi questa grande ipocrisia tutta italica dovrà pure finire e le brasiliane nella storia avranno lo stesso spessore per il traguardo raggiunto di Billie Jean King ve lo insegni tu dal tennis e di Martina Navarrova hanno lottato per qualcosa che hanno saputo ottenere perché in Italia non si può fare c'è paura di distribuzione di energie economiche raccontatemelo noi ci fermiamo andiamo in pubblicità tutto questo perché dopo abbiamo Enrico Sbatella che è l'allenatore della nazionale under 19 femminile rimanete con noi grazie a tutti